Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Federico Catozzi che mi chiede di parlare del film di Stanley Kramer, L'ultima spiaggia L'ultima spiaggia, proprio il detto siamo all'ultima spiaggia nel vero senso della parola un film bellissimo, secondo me un film pacifista contro le armi, contro il nucleare che adesso dovrebbero vedere in 6.000 per capire in che condizione il mondo non è cambiato nonostante che questo film fosse distrutto all'epoca dalla critica massacrato dai conservatori dicendo che raccontava bugie perché era un film che nel momento in cui la guerra nucleare non sembrava quasi distante come ipotesi cosa che sembra ritornata adesso inquietantemente in questo film e quindi il nostro Stanley Kramer andava diritto appunto sul fallout nucleare perché la storia è quella appunto di una terza guerra mondiale e qui siamo nel 1959, il film è ambientato nel 64-65 quindi qualche anno dopo appunto dell'epoca in cui è ambientato il film fallout nucleare, terza guerra mondiale, ha distrutto praticamente tutto il mondo è rimasta viva solo una parte dell'Australia perché è l'ultima che prenderà appunto questo fallout che comunque arriverà assolutamente ed è detto subito dall'inizio che il mondo finirà però assistiamo insomma a un gruppo di persone che vogliono cercare appunto di trovare una soluzione alcuni dicono che al polo nord ci sarà un grado di reattività minore che quindi è vivibile, altri trovano un segnale dalla California che sembrerebbe poter portare ad altri insomma sommergibili americani in giro per cui una cosa in più troviamo tutti i vari personaggi appunto che si trovano prima di questa partenza Towers che è interpretato alla stragrande da Gregory Peck praticamente che anche in questo modo si avvicina in realtà nonostante sia verso la fine del mondo alla non più giovanissima Moira interpretata da una splendida Ava Gardner e poi troviamo altri personaggi Anthony Perkins che fa praticamente Peter Holmes Fred Astaire che fa il dottor Julian Osborne che fa una scena drammaticissima a un certo punto come un po' tutti è un film incredibile dove a un certo punto il governo australiano dà queste dosi di veleno per ammazzarsi prima che arrivi il fallout è una cosa incredibile per un film terrificante che metteva già in chiaro che cosa stesse succedendo e che cosa poteva succedere con appunto l'idea di una guerra mondiale utilizzando armi di questo tipo e già il film è contro qualsiasi tipo di arma ed è contro qualsiasi tipo di guerra ma questa veramente è considerata giustamente la più stupida di tutte un mondo che andrà a scomparire grazie all'utilizzo di qualcosa che dovrebbe difendere come ci vogliono far credere ovvero le armi che in realtà per me sono solo di offesa e in un certo senso questo film è un film incredibile sotto il punto di vista recitativo come ha detto uno più bravo dell'altro il montaggio di Fredrick Hudson funziona alla stragrande delle musiche sono bellissime del grande Ernest Gold e la sceneggiatura di John Paxton è veramente di quelle che colpiscono così come colpisce appunto questo ambiente questa situazione questo film post pre-apocalittico nel mezzo all'apocalisse che sta per deflagrare tutto mette un'angoscia incredibile un'ansia enorme e ci fa capire quanto la guerra sia una merda quanto le armi nucleari siano da bandire assolutamente come quasi per me tutte le armi ma con le nucleari assolutamente e di come in realtà riguardando questo film che è del 59 sembra proprio che il mondo un'altra volta non impari un cazzo dagli errori non impari un cazzo dall'arte non impari un cazzo a nulla perché qui pur di fare quello che cazzo le pare sono dispostissimi a vendere armi nucleari e continuare a fare il cazzo che le pare guerre da tutte le parti armi da tutte le parti tanto chi cazzo se ne fregano si distrugge solo il mondo questo film ce la dice così ce lo spara direttamente in faccia e ci distrugge tutto quello che è un certo tipo di ricerca di salvezza perché non li salverà assolutamente il Polo Nord non li salverà assolutamente l'America non li salverà assolutamente stare in Australia non li salverà niente perché ormai il genere romano è riuscito ad auto deflagrarsi attraverso appunto l'utilizzo di un tipo di arma che un'altra volta ripeto dovrebbero servire per quello che ci dicono ad aiutare, a difendersi e che in realtà sono solo armi che distruggono, ammazzano e che quindi alla fin fine portano solo morte eliminate le armi eliminate la guerra se non a sassi è un film assolutamente pessimista sia sul genere umano che soprattutto su quello che insomma il genere umano andrà a cercare in futuro un film insomma che ci fa capire che capiamo le cose troppo tardi quando ormai le abbiamo persi un po' come la madre che capisce nonostante si insuovize l'amore per la figlia solo nel momento in cui si renderà conto che forse non avrà un futuro film per me eccellente uno dei classici film andati a scomparire come quasi tutta l'opera del grandissimo Stanley Kramer che invece è un regista a livelli coi controcazzi e che andrebbe riscoperto e questo l'ultima spiaggia è un film tristissimo drammatico di fantascienza in realtà è una fantascienza che poi verrà copiata e ricopiata ma sociale e politica appunto che attacca tutto quello che all'epoca sembrava poter essere una risoluzione semplice e normale ovvero la guerra nucleare cosa che sembra essere tornata oggi di attualità e questa cosa mi inquieta ancora di più il link del film è qua sotto donate su Patreon mi piace iscrivetevi al canale e qui sotto c'è il puzzante del super grazie per donare su YouTube poi seguitemi su Facebook e su Instagram e poi questo l'ultima spiaggia per me è un acquisto obbligato che dovrebbe essere anche obbligato per tutti i potenti del mondo così comincerebbero un pochino a capire con la testina che cazzo devono fare con questo disarmo